Leandro Esteban Cuzzolino, innanzitutto bentornato. Sono contento dopo una lunga trattativa e niente, sono contento di essere tornato all'acqua e sapore, quindi penso che ho fatto un'ottima scelta. Gli stimoli sono veramente tanti, chissà che cosa potrà succedere, che ti dice la testa? Sì, come hai detto te, gli stimoli sono tanti, una nuova squadra per me, anche se conosco la società di tutti i ragazzi, è un nuovo allenatore, quindi devo partire da zero. Quindi è una bella sfida che ho voluto fortemente, starà in me, negli allenamenti e nel lavoro giorno dopo giorno per vedere se veramente sono al livello dei miei compagni che hanno fatto un lavoro straordinario l'anno scorso. E poi le sfide di Coppa Italia, Coppa dei Campioni, Scudetto, queste sono già abituato ormai dopo tanti anni, però è sempre bello trovarsi in una competizione del genere perché sta in mostra sia in tutta Italia che in tutta Europa, quindi è una bella sfida.